Oggi cercare lavoro è indubbiamente molto più semplificato nei mezzi, internet in questo ha facilitato tutto però rispetto al passato la quantità di strumenti per candidarsi paradossalmente ha portato anche più confusione perché ti vai a candidare magari a tante posizioni, a differenza del passato dove magari andavi a comprare un giornale e cercavi di fissare un colloco con quell'azienda. Oggi invece fai application, a n siti, a n portali, ti arriva la mail, ti arriva la notifica sul cellulare e puoi veramente perdere di vista il numero di application che hai fatto. Ogni application fatta va segnata perché nel momento in cui l'azienda ti chiama e tu non dai immediatamente la sensazione di essere consapevole della tua candidatura hai già perso dei punti rispetto alla candidatura stessa. Quindi un consiglio per tutti comunque, no CV a pioggia, quindi anche se i strumenti oggi ci portano a mandare CV a pioggia meglio non farlo, sì invece ci fu consapevole inviate alle aziende in cui credete e in cui volete lavorare. Buona giornata a tutti!